Ti chiami? Francesca Ravasio, sono titolare della Patirana a Zandobbio. Ho scelto di partecipare a questo corso perché sono convinta che la formazione sia un punto di forza nella mia proposta e per soddisfare gli ospiti. In questo corso ho scoperto tutto un mondo che riguarda la celiachia, le varie intolleranze e ho scoperto che si può soddisfare le esigenze di un ospite senza problemi. Nel senso che si può dare un'alternativa ai prodotti che normalmente si propongono per la colazione. Ho scoperto soprattutto come comunicare agli ospiti con esigenze alimentari particolari, infondendo loro fiducia e soprattutto instaurando un rapporto di domanda e di risposta positiva su quello che loro si aspetterebbero di trovare a colazione. A chi lo consiglieresti e perché questo corso? Lo consiglierei assolutamente a tutti coloro che si occupano di ricettività perché è un corso innanzitutto molto simpatico perché comunque parla di cose che assolutamente servono nel nostro lavoro. A chi ha delle difficoltà, come la maggior parte di noi, a comunicare con l'ospite perché pensa di avere già fatto e detto tutto quello che a lui serve nel momento in cui si fa il check-in. Grazie mille. E il tuo sito web per concludere? Il mio sito web è www.lapatirana.it Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao.